Pacchino, stalking e maltrattamenti in famiglia a donna aggredita, divieto di avvicinamento a 25enne. Si sosseguono incalzanti nel nostro territorio numerosi fatti di cronaca riguardanti i presodi di violenza in famiglia. Il caso di un 25enne convivente avvezzo alle mani. Nella giornata del 4 maggio il commissariato di pubblica sicurezza di Pacchino eseguiva l'ordinanza del GIP di Siracusa che disponeva nei confronti di un giovane di 25 anni residente a Pacchino la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa mantenendo una distanza di almeno 100 metri dai luoghi di residenza della stessa, vietando di comunicare con qualsiasi mezzo epistolare telefonico o telematico. L'ordinanza di applicazione della misura cautelare giungeva all'epilogo di una delicata attività investigativa condotta dal personale del commissariato di pubblica sicurezza di Pacchino. Nella fattispecie nel periodo di convivenza l'indagato manifestava atteggiamenti violenti, prevaricatori e possessivi nei confronti della propria compagna vietandole altresì di uscire di casa perché assillato da morbosa gelosia non esitando a picchiarla anche a seguito della loro separazione nel comportamento dell'indagato non mutava poiché l'uomo controllava continuamente gli spostamenti della donna e creava falsi profili dei vari social network finalizzati a ingiuriarla con epiteti di vario genere. In un'altra occasione l'indagato per costringere la vittima a interloquire con lui danneggiava la maniglia della portiera dell'auto e si impossessava poi del telefono cellulare per controllarne le conversazioni. La condotta dell'indagato ha determinato un grave clima di ansia nella persona offesa, la quale non poteva liberamente organizzare la propria vita condizionato dagli atteggiamenti ossessivi dell'ex compagno. Tale circostanze, valutate nella loro complessità, inducevano il commissariato a riferire tempestivamente all'autorità giudiziaria in quanto trattasi di reati concernenti il Codice Rosso al fine di interrompere la condotta criminosa ed evitare che venisse portata ad estreme conseguenze. Su richiesta della Procura della Repubblica di Siracusa, il GIP emetteva la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, provvedimento divenuto effettivo in data 4 maggio, allora quando l'indagato veniva reso edotto dei reati contestati, maltrattamenti contro familiari e atti persecutori e delle determinazioni restrittive della libertà personale poste a tutela della vittima.